E' il motore che salta per fortuna. Ma come cazzo si sono messi? Raga, fatemi una foto, mi prego. Attacco intanto davanti, Albert sta cercando in tutti i modi di portarla a casa. Ma... Mike Quartelen! Lascio una direzione corsa vedere, ma secondo me non è logico che possa passare Mike Quartelen in quella posizione. Ok? Mike Quartelen in tutta l'idea. All'obbri, Albert! Matteo! All'obbri! 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 e quindi Billy Albers cercherà di tenersi in la seconda posizione perché Albers adesso ha un matto con il cuore così vicino vediamo come esce questa volta Albers quasi va a picchiare quasi di traverso Martenet Albers albergo albergo con il numero 8 35 il 75 Marco Levi si va a girare al 4 intanto inizia l'ultimo giro Mike Bartlett però sono esattamente 5 secondi Mike Bartlett se riesce a ritornare il suo vantaggio potrebbe essere in ogni caso davanti ma non è tutto da vedere quindi la classifica ci dice che la vittoria è di Mike Bartlett e vediamo il distacco perché è importante vedere quanto vince su Billy Albers vediamo il T-box e poi Oseca e Bartlett occhio a semaforo e andiamo 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 a vedere subito se Tafani pure chi fa adesso con il senso Tafani salta adesso si gira perché come noi non riusciano a mettere il tubo perché c'è il muretto Davide Cfinan took the lead the French guy in front of David Der Eyck and Flo Tafani vedi cos'è Davide Cfinan portodio no 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 ma veramente hai visto come si si nuova tu aspettavi tu aspettavi torrani invece arriva Schwimmen per la France e davanti di fatti c'è Schwimmen francese con in seconda posizione con 13 ore qui andiamo 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 di Sottafani ma all'attacco di OVAC ed OVAC su Evangela altissimo cercando di spazzolare la grande attacco all'interno su Evangela su Evangela su Evangela l'uomo d'Este ecco fantastic performance per Davide Cfinan Davide Cfinan Davide Cfinan la presenza è lì davide Davide Der Eyck ha portato l'uomo d'Este 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 non è lui non è lui Davide Cfinan da Fani ha riuscito a passare quindi due francesi davanti e il Schwimman e Florian Tafani e la mancia di rosa il y a due francese au deux premières placas mesdames e messieurs David Schvillan e Florian Tafani il sono là due francese on the two first place he's on the third place he's a checker e there is a big black hole and we'll see a bellissima passata di polvere di Horac e davanti ai due francesi David Schvillan Florian Tafani andy Horac andy Anthony Zedek the last clap last clap for David Schvillan in front of Florian Tafani allora Schwimman Tafani Horac Horac che sarà il francese per la vittoria e che buona sorpresa! Sì! 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 Finale nel quale abbiamo visto intanto Peter Bartosz si porta a casa alla quarta posizione in rimonta dall'ultima fila. Davanti ad Ansueli Egli abbiamo visto il dominio dei due francesi con Sweden davanti a un Tafani che ha il punto posteriore della vettura. È morito, sta perdendo i pezzi della carrozzeria, però l'importante è che sia riuscito a portarla a casa. Quindi Swisselli in seconda, semmaforo che va via alla grande. Vediamo Giordak in verde e bianco e lui davanti. Poi al suo fianco vediamo Cristian Castelli. Oooo! 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 Andai! Stramberg sul tanto dietro di cui spagnolo davanti, tutto il resto Giordak ha fatto vedere ancora una volta una partenza bella, tosta e sicura. La storia del generalista. Gli altri posti durante il centro di Giorgio, da Slovenia. Questa è un'esplotazione di giovane. Giorgione tra i partenzi strumenti del italiano. Trocala avanti, in frantano i riguardi il mistero spagnol dell'usita. In un giro giro spagnolo l'usita da Europa. Grazie La Repubblica Ceca Lui sta andando, voglio vedere il tempo Intanto perché ha girato in 49 il primo giro da fermo Non è giornata per il nostro Cristian Garza La Repubblica è sprofondato in settima Adesso un'altra posizione Il topo E quindi va Stettina Passa in seconda posizione Stettina Giordak in prima, Stettina in seconda Che è passato Arenzen Poi in quarta posizione La Kern E a seguire gli aerei Giordak tranquillo La Repubblica La Repubblica è stata Grazie a tutti per l'Adecona. L'Amen Ferencene è in place numero 4. In place numero 5 è John Ponte Hovel, rappresentando Germania. La ultima lapcia, una lapcia per andare, una lapcia per andare. Per l'Adecona! In quarta, la venta, in quinta, Scrobert, con il 39 Bracker davanti alla scuola. È possibile mangiare una posizione davanti a John Ponte Hovel, che non si è fatto in timonire da un ritorno di Stettine. Quindi la bandiera Scaki, nelle mani di Robby Gambalo, è pronta a sventolare per lui. E davanti a tutti, John Ponte Hovel, Stettina! La brava di Stettina, con la terza posizione, che è bella, non si è bella, e poi è... E' dicchio aperto per tutti gli altri della banda che cercheranno di attaccarlo. Bernard è la parte buona, ma l'attacco immediatamente con... Come c'è? Si tocca un'altra disperse, o si fanno solo una ritorno di Stettina, tutti e due. Gerberto Osmanen è ora, Dan Bell, Sturato ritorino in fronte di Sakukovic, Il secondo è il primo, il primo, il primo! Il primo è l'interno, il primo, il primo! Il primo è il primo! Il primo è il primo! Il primo è il primo! Da mattino, come sta lui? Quando vede la partenza non vuole che ci sia nessuno davanti! Quindi prende e va! Non è stupido! Non come c'è! geben la parte, ciò che si sta recuperando dopo una giornata di sabato di la stagia per lui Adesso, secondo me, sarà quarta posizione del primo! Sai che non ho capito se il mondo è l'interno nel suoール sull'interno! L'interno alla scuola della scuola della scuola della strada, l'interno alla strada della scuola della scuola della scuola della scuola di Rezzi E ora, vado a dare una scuola della scuola della scuola della scuola della scuola Per vedere il grande Bern Perché nel momento che fa in macchina... ...peremente un mostro! Sono un vostro nel vero senso con la parola, non solo perché ha vinto a 10 titoli, perché è veramente un geniale in macchina. È un salvelo lì che andiamo a toccare! Io credo che il Grecis è il primo campeonato europeo, molto fantastico per il terzo giro, ma anche se non è un giro, ma anche se non è un giro. È un giro in giro, ma anche se non è un giro in giro, ma anche se non è un giro in giro. Grecis adesso ha un attacco assoluto, vuole passare, intanto veniamo anche a tempo sul giro, l'Ipera Stube che già girata in giro, 5,6. Grecis è un giro, ma anche se non è un giro, ma anche se non è un giro, ma anche se non è un giro. Gi spikes è ormai aногri da Dirao, прикasso il Grecis è una terra di Dirao, un corona pescini fra Lavia. Qui al Ultimo giro, non è... E ancora ha tirato giù un decimo, ha girato in 40 minuti... Mi risposta di rispondere... Un'interventura da Rivo dentro, intanto anche Crencis ci sta volando a riprendersi almeno la terza posizione dopo un sabato scandaloso, ma tutti gli occhi sono per sua maestà! Lui, il numero uno, il numero uno! Questo è il numero uno! Il numero uno, il numero uno, il numero uno! Il numero uno, il numero uno, il numero uno! Poi l'arrivo in volante, Blount ce la fa, ce la fa, ce la fa davanti a Crencis! Niente da fare per Crencis!